Siamo a Battipaglia in provincia di Salerno e stiamo per visitare il punto vendita Majorano. Grazie a tutti. Il punto vendita è ai margini della zona industriale di Battipaglia e sito sulla statale 18 quella che porta ad Agropoli. La filiale Majorano di Battipaglia sono impegnate 7 collaboratori. Si tratta di 3 agenti esterni più 4 interni che si occupano del magazzino, del bancone, della showroom e dell'ufficio tecnico. Grazie a tutti. 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 Principalmente mi occupo della vendita al banco e ovviamente questo richiede il poter partecipare ad attività che riguardano anche il magazzino, quindi nello stoccaggio del materiale, nella preparazione delle commissioni da poter poi dare al cliente finale. Il lavoro consiste sia della cassa, tutto quello che può essere la contabilità del punto vendita e in più il banco, la vendita al cliente, in tutte le sue sfaccettature che possono essere. Allora, sicuramente la parte elettromeccanica è quella che mi piace di più, come anche il settore industriale, quindi tutto ciò che riguarda l'automazione fa parte del mio bagaglio tecnico. Il punto vendita di battipaglia si estende su 1500 metri quadri divisi tra bancone, magazzino e showroom di illuminotecnica. Sì, abbiamo uno showroom che può far parte del completamento del nostro bagaglio aziendale, quindi da servizio anche ai privati, facciamo progettazioni di illuminotecnica, tutto quello che abbraccia poi la parte professionale a livello di architetti, ingegneri che si possono appoggiare tranquillamente al nostro showroom. Ci abbiamo messo un pochettino di tempo perché noi siamo più una zona industriale in verità, però finalmente l'azienda ha creduto che la zona di battipaglia avesse un bacino abbastanza importante anche come illuminazione e di conseguenza abbiamo allestito circa due anni fa questo showroom. Ho fatto dei marchi, dei brand un pochettino più importanti e poi ho fatto anche di aziende un pochettino più competitive in base anche alle tasche e alle disponibilità delle persone che vogliono acquistare, quindi dai brand più importanti a quelli meno importanti. I clienti di questo punto vendita di battipaglia sono prima di tutto le aziende del settore elettrotecnico, elettromeccanico e dei componenti industriali e poi le altre aziende, quelle del settore alimentare e della plastica, naturalmente poi ci sono tutti gli installatori. C'è una buona richiesta in zona visto che le aziende che sono in questa zona sono tutte aziende a livello nazionale, a livello internazionale, quindi il mercato risponde alle esigenze di queste aziende, noi prevalentemente siamo il punto per eccellenza di riferimento di queste aziende in zona. Ma l'esigenza più importante è quella di avere, le due cose principali sono la disponibilità e il costo, il prezzo insomma che sia quello là giusto del mercato. Sicuramente le principali esigenze sono la disponibilità dei prodotti che ovviamente il cliente desidera avere direttamente al banco in maniera immediata e poi anche per quanto riguarda la scontistica, anche sotto questo aspetto il cliente è molto meticoloso nel vedere e fare il raffronto con altre aziende su appunto i prezzi. Cerchiamo di rispondere al meglio, ci sono dei corsi di aggiornamento insomma in maniera tale che insomma ognuno di noi insomma si identifica insomma di quello che può essere la richiesta del cliente nello specifico insomma. La maggior parte dei nostri clienti sono aziende che sono specificamente nel settore della plastica e nella parte ortofrutticola. Dopodiché c'è un'ottima fetta di installatori e manutentori della zona che rispondono anche alle richieste di queste aziende e quindi fanno capo a noi qui a Battipaglia. Le esigenze sono due, i prezzi e la velocità. Più veloce si riesce ad essere e migliore poi dopo è la pubblicità che ci facciamo poi con altre persone perché col passaparola poi dopo riusciamo ad avere sempre più gente al banco. Il bene o male troviamo quasi tutto qua, quello che ci serve troviamo quasi l'ultimo, altri fornitori se andiamo a prendere la zona, se andiamo a prendere e ti vanno a perdere tempo, questo è il discorso. La prima cosa, poi i prezzi e un fatto secondario diciamo perché prima la disponibilità del prodotto, è importantissimo. Ma comunque perché sono gentili e poi anche per una questione di prezzi pure, sono abbastanza competitivi sul mercato. Troviamo bene la disponibilità dei prodotti. La nostra ditta ha questo materiale da Majorano e ci siamo trovati bene sempre e continuiamo a trovarci bene. Noi sono abbastanza competenti. Ciao. Ciao. Grazie a tutti. Al 90% sì, ma se non li trovi in breve tempo mi li mandano a prendere. Massimo il giorno dopo, due giorni, ce li fanno a me. Mi situa sempre bene qua, un po' per i pezzi, un po' per la vicinanza. Trovare il materiale che serve. Se non c'è il tempo che arriva, penso che c'erano altri filiali, penso che non preoccupano. Sono preparati, quando io le chiedo quello che cerco mi danno anche dei consigli a volte, su quello che io cerco e quello che voglio fare. I colleghi della Majorano, che è sempre disponibile, pronti a darci una mano per spiegarci il materiale e altro. Noi sono tecnici, sono bravi, tecnicamente non sono preparati. Sono professionali, seri, ogni qualvolta e poi quando un prodotto non lo trovo, io lascio il numero di telefono, mi chiamano addirittura, quindi perfetto. No, sono abbastanza disponibili, sono quelle che fanno. Il materiale, se non è disponibile qui, arriva il giorno dopo perché Napoli, sempre come filiale centrale, può sempre arrivare. Le principali esigenze sono i prezzi, in primis i migliori prezzi sul mercato, e la velocità del servizio e la disponibilità dei materiali immediata. Sui terminali civili abbiamo fatto più 5. Ma veramente a me segna più 3, strano, la differenza è un po' grossa. Non è che qualcuno ha cambiato i codici? Sì, e come faccio a saperlo se nessuno me lo dice? Ma te l'ho scritto. Ma guarda che io non ho ricevuto nulla. È sempre il solito problema, manca una classificazione comune. Ma voi sapete cos'è l'EletroCode? No, dico, serve a classificare i prodotti. Così tutti parlano la stessa lingua poi, eh? Il nome Majorano è importantissimo. Senza il nome Majorano diventerebbe difficile poter lavorare in questa maniera. Siamo l'azienda di riferimento per la maggiore sulla parte industriale. Penso che comunque ha un impatto con i clienti importante, insomma, che si sente, insomma, che c'è. Salve, buongiorno, sono Germano Benedetto, il responsabile del punto vendita di Battipaio. Buongiorno, sono Umberto Muselli, mi occupo della cassa e il banco. Buongiorno, sono Barbuti Massimiliano e sono addetto alle ventite al banco. Buongiorno, sono Andrea Verzola, lavoro nella Majorano da nove anni e in questo momento mi occupo del settore dello showroom, di illuminazione. A presto. Buongiorno, ciao. Buongiorno, restавливiamo un'azienda. Buongiorno, rest� viktigt Holmes. A presto. Buongiorno, warriamo la canale inter Inter Gun hacemos un'zamesterno. Buongiorno, è un'azienda libera in questa maniera della gara ipvisa online. Buongiorno, chiudca l'aziendaors Buongiorno, è un'azienda libera di nulla.